Artexfus 2016 Milano nasce per dare una panoramica generale di che cosa c'è all'interno del panorama artistico, sia a livello contemporaneo che a livello moderno. Infatti quest'anno abbiamo fuso insieme gli artisti contemporanei e i masters, i moderni. Il motivo essenziale è che stiamo creando un format alternativo che possa unire ciò che è galleria con ciò che è fiera. Infatti utilizziamo uno spazio fieristico però con una metodologia operativa da galleria. L'obiettivo è ovviamente commerciale ma sono importanti per noi anche gli approfondimenti legati all'investimento e al business legato all'arte. Quindi i fondi d'arte, come approcciarsi alla vendita e all'acquisto di un'opera d'arte, quindi grazie all'Art Advisor. Avendo comunque una settimana di evento, un vernissaggio, un finissaggio, avevamo anche la necessità e la volontà di arricchire appunto questa struttura con i collaterals. Ad esempio il DJ set durante il vernissaggio, ad esempio Scorci Prospettici che è un progetto che unisce il design e la poesia. Art Expo posso sintetizzarlo come un contenitore di bellezza e di opportunità. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie.